Ciao ragazzi, probabilmente questo è l'unico video che vedrete al contrario, però non posso farci niente perché ho il telefono fisso in macchina. E niente, sono qua con il mio amico Chocco che sto mandando a Bologna Fiere, al Bologna Nerd Show. Se qualcuno vuole... è la Optum. Questa è una pallina luminosa. Vediamo se indovinate... Allora io faccio il cosplay, mi sono fatto un costume, se indovinate che cos'è questa... Lui gli ha messo tutti i led dentro, io l'ho colorata. Faccio una mimica perché... Sera di sera questa è meravigliosa. Si dovrebbe capire che cos'è. Fagli vedere un attimo il meccanismo interno. L'alta tecnologia. Parliamo semplicemente di... Una serie di led, appunto, sia sopra che sotto, messi tutti perfetti. E su un tondino di alluminio, per raffreddarli meglio, appunto qua. Bene ragazzi, ci vediamo nel Bologna Nerd Show, se qualcuno vuole... ... ... ... ... ... ... ... ... ...